Che cos'è Enjoy the Sports? Allora, salve. Enjoy the Sports è un progetto che fa parte dell'iniziativa di sport di tutti i carceri. All'interno di questo progetto inizieremo attività sportiva presso la comunità educativa di minori, NEMO, Contrada Feudo di Castelbasso. Faremo un anno e mezzo di attività sportiva con i minori residenti in questa comunità, con sport innovativi, due ore di allenamenti settimanali. Sono minori che risiedono in questa comunità, sono bambini davvero piccoli che vanno da pochissimi anni fino ai 12-14 anni. I beneficiari del progetto in generale saranno anche i minori che sono in carica presso l'UEPE, presso l'USM Abruzzo. Quindi collaboreremo con questi utenti per tutta la durata del progetto, sia all'interno della comunità che all'esterno. Tutto il progetto sarà di 18 mesi, ci saranno dei tirocini formativi di cui soffriranno questi utenti e anche due borse lavoro retribuite per il reinserimento nella società, per riavere questa valenza educativa attraverso lo sport.